Giuseppe! Scemo! Non è per te. Ma se qua c'è scritto il mio nome. Buongiorno, Giuseppe è in casa. Come mai non viene a scuola? È malato. Non so più di quello che ti ho detto. Giuseppe, gli è successo qualcosa, ne sono certa. Ora passa a queste fessone. Collabora con noi poliziotti. È denunciato a tutti questi mafiosi amici suoi. Non fare scuscio perché sennò ti ammazzo. Sei più intelligente di così. Quindi secondo te dovrei fare finta di niente. Come tutti. Certo, perché noi qui siamo tutti degli idioti. Levati da questo banco, non è tuo. Perché il figlio dell'infame a scuola non ci torna più. Non lo so se tornerò. Ma come l'è? Lasciate! Solo tu mi puoi aiutare. Perché quello che sogno sei tu. Mi piacerebbe tanto sognare. Come fai tu. Ma qui non ci riesco. Giuseppe! 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 Grazie a tutti